Finalmente il comune di Monbaroccio da sabato scorso 22 settembre ha una nuova stazione dell'arma dei carabinieri. La cerimonia si è tenuta alla presenza del generale di brigata Fernando Nazaro, comandante della legione carabinieri Marche di Ancona, dal prefetto, dai vertici dei tribunali e delle procure della Repubblica di Pesaro Urbino, dal comandante provinciale Luciano Ricciarti, insieme anche alle altre massime autorità locali e numerosi cittadini intervenuti. Abbiamo inaugurato questa sede che sicuramente è molto più confacente rispetto alla precedente e la nostra forza è quella di stare in mezzo alla gente e tra la gente. Ai cittadini diciamo di continuare a, oltre che volerci bene, continuare a chiamare per qualsiasi situazione, per qualsiasi problematica, chiamare, venire in caserma, noi siamo sempre a disposizione. Siamo sempre a servizio del cittadino e ci piace essere sempre in mezzo alla gente. Si celebra oggi l'inaugurazione della nuova sede del comando stazione carabinieri di Monbaroccio. Successivamente il sindaco di Monbaroccio ha donato alla stazione carabinieri la bandiera nazionale, consegnata al comandante della stazione, maresciallo maggiore Alfonso Petroselli da Giovanna Paolone, madrina della cerimonia e vedova del maresciallo capo medaglia d'oro al valore militare alla memoria, Sergio Piermani. Perdere una stazione dei carabinieri dopo tantissimi anni, mi pare 157 anni dalla fondazione, credo che sarebbe stato veramente un grandissimo peccato. Anche perché poi, al di là di quello che è il periodo storico che ha visto Monbaroccio con i carabinieri, c'è proprio oggi, visti i tempi, la necessità di avere sul territorio una presenza non solo simbolica ma effettiva. Molte anche le realtà del territorio che hanno reso possibile l'inaugurazione e la sistemazione di questa struttura. Oggi è stata una bella giornata perché per la riuscita di questa manifestazione è stata messa in campo tutta la forza del volontariato. Oltre alla Proloco, tutte le associazioni di questo comune in qualche modo hanno collaborato alla riuscita dell'evento. Dopo il taglio del nastro, la benedizione della caserma da parte del cappellano militare della legione Carabinieri Marche, Don Giuseppe Faraci e dal padre guardiano del santuario del Beato Sante, padre Renato Martino.